SORPRESO DAI CARABINIERI Il ventenne si trovava da solo nel piazzale e alla vista dei militari si è nervosito. È stato così sottoposto a identificazione e perquisizione. All'interno dell'auto i carabinieri hanno ritrovato 20 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e 4.000 euro in vari tagli. A quel punto i controlli sono stati estesi anche all'abitazione del giovane nell'immediata periferia retina. Lì sono stati trovati altri 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta anche questa per lo spaccio, del materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente ed infine un bilancino di precisione, il tutto ben nascosto dentro un soprammobile. Il giovane con numerosi precedenti per droga sarebbe inoltre imparentato con un elemento di spicco di un clan camorristico partenopeo. Proseguono adesso le indagini dei militari su possibili legami dell'uomo con la camorra.